Villa Mendola apre le porte dell'arte figurativa con la mostra Pierpaolo Pasolini e la nuova figurazione organizzata dall'assessorato al turismo del comune di Avellino e curato dal maestro Enzo Angioni. Cento opere di oltre 90 artisti italiani ed esteri creano un percorso espositivo tutto da ammirare per rendere omaggio a Pasolini in occasione del centenario della sua nascita. Ringrazio il maestro Angioni, curatore di questa splendida mostra di 100 artisti dove al centro c'è la figura di Pasolini, un uomo legato ad Avellino. Quindi lo ringrazio nuovamente e aspettiamo i visitatori per vedere la bellezza di Villa Mendola e di questa mostra. Si tratta di una mostra di alto livello partita da Udine e poi portata a Pescara ora tocca ad Avellino con artisti che hanno dato il meglio di loro stessi con la loro cifra stilistica. L'Associazione Arte Europa si fa promotore di invitare le scolaresche e fare in modo da prendere tutti gli appunti necessari come fosse un bel laboratorio operativo, come avviene nelle migliori città italiane. Grazie.